Dai giardini privati alle ville e palazzi storici, un ricchissimo patrimonio culturale che sarà possibile scoprire grazie a Vivi il Verde, terza edizione della rassegna organizzata dall'Istituto Beni Culturali con eventi in programma in luoghi sparsi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Protagoniste le grandi città ma anche le tante località in provincia, si parlerà di alberi e di natura da rispettare e da vivere secondo le modalità più disparate, tra visite guidate, laboratori, percorsi sensoriali, tree watching e atelier didattici. Partiamo con una conferenza a Palazzo Ercolani a Bologna, la sede di Scienze Politiche, con il professore Eugenio Riccomini. Sarà anche l'occasione per omaggiare tutti i presenti con il volume Giardini nel tempo dal mito alla storia, che illustra la storia, il mito, i simboli del giardino. Ne visiteremo tanti in queste tre giornate, da Rimini a Piacenza, Giardini all'italiana o alla francese, Giardini all'inglese, seguendo la loro storia, i loro simboli. Faremo tante cose, vivremo il verde in tutte le sue sfumature e impareremo a potare gli alberi attraverso esperienze di tree climbing. Avremo conferenze dedicate al veda, alla natura, laboratori, laboratori e atelier didattici per bambini, sia a Bologna, a Modena, nel Piacentino, come fino a Pennabilli, con i luoghi incantati di Tonino Guerra. A Bologna in particolare, mi piace ricordare le iniziative per bambini che faremo in Montagnola, sabato, tutta la giornata, mentre a Modena è un'occasione speciale per visitare il parco romantico all'inglese di Villa Sorra, con anche una passeggiata in bicicletta che parte dalla stazione di Modena e arriva a Castelfranco. Villa Sorra è un luogo magico, molto amato da Pasolini, che qui ambientò alcune scene del suo salò.